Ad inizio agosto lo specchio di mare antistante ai grandi alberghi a Montesilvano presentava un numero di escherichiacoli superiori al limite consentito dalla legge. Durante le analisi di routine condotte l'8 agosto dall'Arta, l'ente preposto al monitoraggio della qualità delle acque di bagnazione, il valore registrato era di 728 unità, oltre il tetto massimo di 500 stabilito dalla legge. Così anche il 10 agosto, quando ulteriori analisi supplettive hanno rilevato un valore ancora sopra i limiti tabellari. I valori sono poi rientrati nella norma il giorno successivo. Secondo i consiglieri del Partito Democratico di Montesilvano, la mancata emissione dell'ordinanza e l'assenza di cartelli di divieto di bagnazione in una stagione estiva altamente frequentata ha sollevato seri dubbi sulla sicurezza dei bagnanti e dei turisti. I cittadini che quindi manifestano dei sintomi che sono ricondicibili all'esposizione esteri chiacoli trattandosi insomma di o ingestione oppure da contatto cutaneo quindi infezioni cutanee, infezioni urinarie, gasti interiti, vomito, considerando il periodo di incubazione che è dell'ordine di otto giorni di darne segnalazione alla ASL proprio affinché ci possa essere un monitoraggio rispetto agli impatti. Sempre i DEM col consigliere Saccone chiedono le dimissioni del primo cittadino Ottavio De Martinis. Questa grave omissione è un atto che secondo noi deve avere come conseguenza, a parte quelle che saranno accertate eventualmente dagli organi, quella delle sue dimissioni perché evidentemente si è dimostrato assolutamente incapace di gestire. Avrebbe dovuto, era un atto dovuto fare un ordinanzi di divieto di bagnazione, non l'ha fatto, non l'ha fatto perché sinceramente non riusciamo a capire perché non l'abbia fatto, perché è una cosa che dovrebbe venire pressoché automaticamente quando vengono segnalati questi livelli di superamento del limite consentito dalla legge.